È da mesi che volevo consegnare le chiavi e invece hanno voluto fare una prova di muscoli un po' brugnariana, non so come dire. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. A Forte Marghera arriva la polizia locale per intimare lo sgombero di uffici e magazzini utilizzati dalla Marco Polo System, che da par suo non ha mai, pur ovviamente non condividendo la decisione, opposto resistenza all'abbandono dei locali deciso dal comune, che li destinerà alla Fondazione Porto Marghera, uno sgombero in cui non mancano anche risvolti per certi versi paradossali. Lì dentro c'è la sede operativa del GIE Marco Polo System, che è una società europea che sta continuando a lavorare, che ha progetti europei in essere, c'è ancora tre dipendenti e per cui non potevano sgomberarsela perché il GIE ha come socio il comune di Venezia. Come fai a sgomberare una tua società se non gli dai un cambio? E adesso cosa succede? Si sono resi conto che sgomberare quei locali, mano armata, non si può, perché è pieno di roba, c'è un sacco di cose. Per cui mi hanno lasciato le chiavi fino a altri dieci giorni, finché verranno a prendere possesso. E mentre la sede della società, che è obbligato il comune a darcela, ce la terremo condividendola, cosa già proposta da noi con la Fondazione Porto Marghera, la dividiamo da buoni fratelli e amici, la dividiamo e noi staremo lì fino al 30 giugno dell'anno prossimo. Grazie. Grazie.